Con l'arrivo del piccolo Simon per i coniugi Morandin si realizza il sogno di essere famiglia Nella giornata contro il fumo l'esempio di un ospedale dove anche i parcheggi sono smoke free Balanga di richiesta a Google per essere cancellati dal web, opportunità tra luce ed ombre Inizio di una nuova avventura sul web per il settimanale diocesano di Vicenza, la voce dei Berici Bentrovati in Tg Chiara dopo mesi di riservo assoluto, è arrivato il tempo della felicità finalmente esternata per i coniugi Francesca e Marco Morandin I genitori del piccolo Simon adottato in Congo e rimasto per molti mesi separato dai suoi genitori a causa di un'adozione internazionale Complicatasi proprio all'ultimo istante per decine di coppie Oggi il loro primo incontro con la stampa per noi c'era Michela Faggiani È felice la neomamma di Simon, uno dei 31 bambini congolesi che finalmente sono tornati tra le braccia dei genitori adottivi Dopo il blocco da mesi da parte dell'autorità congolesi del visto d'uscita L'aveva lasciato lì a Natale e da allora viveva nella speranza di poterlo portare in Italia Una vicenda seguita fin da subito dall'onorevole Casellato che oggi già pensa assieme ai colleghi ad aiutare altre famiglie in queste condizioni E a modificare la legge nazionale in materia di adozioni e perché no anche quella europea Sono stati mesi difficili, noi ci abbiamo sempre sperato però non avevamo idea di quando e di se Perché era tutto così vago, così inspiegabile anche i motivi del blocco Ci sono famiglie che aspettano due o tre anni, famiglie che devono spendere 20 e oltre a volte 1000 euro per avere un bimbo Se si riuscisse a fare anche una legge europea che potesse dare forza all'Europa poi nella trattativa anche con i paesi extraeuropei sarebbe interessante Anche Francesca ora che può iniziare il suo percorso da mamma pensa che sta vivendo una situazione simile a quella che ha vissuto lei Capisco benissimo quello che provano e gli sono veramente vicina e ti dico resistete perché i bambini sono meravigliosi e ripagano poi di tutto quello che adesso state soffrendo Sandona di Piave parte da uno spettacolo per raccontare il valore dell'affido Lo fa proprio questa sera, sabato 31 maggio con una pièce intitolata Ti affido il mio cuore e proposta alle 21 al Da Vinci dal Teatro dei Pazzi Quella dell'affido è un'opportunità di sostegno verso i giovanissimi che nell'US10 è di venuta realtà per 61 minori In gran parte stranieri accolti in famiglia, a questi vanno aggiunti una settantina di ragazzi che hanno invece trovato una nuova casa Il calore dell'accoglienza in comunità o in casa e famiglia In questo momento sono 15 minori che tra i distretti di Sandona e Portogruaro avrebbero bisogno di questo tipo di approdo Un istituto, quello dell'affido, che può essere appannaggio anche dei singoli Che consente di dare temporaneamente stabilità affettiva e relazionale a minori con situazioni familiari precarie Da un bimbo straniero appena giunto nel territorio della marca a tanti altri ragazzi che a Treviso sono nati e cresciuti Pur essendo stranieri e che sono divenuti cittadini onorari della città Dall'articolo 3 della Costituzione italiana che parla di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di lingua, religione e opinione Alla cittadinanza civica, 62 ragazzi stranieri frequentanti le scuole superiori della città di Treviso nati e vissuti in Italia E' successo a Treviso all'interno di quella che è stata definita la festa della cittadinanza A consegnare l'attestato a questi giovani cittadini per Ius Soli Oltre al sindaco della città c'era l'ex ministro all'integrazione, ora europarlamentare Cecil Chiang La cittadinanza è un tema di fortissimo, uno strumento fortissimo di integrazione Ius Soli ha Ius Soli temperato e i nostri figli devono iniziare la scuola elementare Soprattutto quelli che sono nati in Italia o arrivati troppo presto Devono tutti iniziare la scuola con la cittadinanza italiana E ce lineiamo a società europee perché la Germania ha il doppio Ius Soli La Francia ha il doppio Ius Soli, un sacco di altre nazioni ce l'hanno e penso sia un percorso di civiltà Sì, sono contenta perché è un'opportunità per noi di essere come tutti, tutti quelli che vivono qua Non sono mancate le proteste da parte degli attivisti di Forza Nuova Arrivati con striscioni ed è sempre contrario a questo tipo di riconoscimento e integrazione La cosa che ci dà più fastidio è che in Italia c'è già una legge sulla cittadinanza, punto primo Punto secondo, il cittadino straniero, il ragazzino che nasce in Italia Gode già di tutti i benefici, sanità, si può iscrivere a qualsiasi associazione, va a scuola Quindi anticipare questa cosa, a chi serve e a che cosa serve Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa sono oltre 18 milioni i bambini e i ragazzi 18 maltrattati, ogni anno almeno 8, 150 mila ragazzini muoiono di maltrattamento prima di compiere 15 anni Un dramma che resta inosservato nel 90% dei casi, in Italia sono quasi 100 mila i bambini vittime di maltrattamenti e abusi E più della metà sono femmine Il fenomeno tocca lo 0,98% della popolazione minorenne La trascuratezza materiale o affettiva, la tipologia preponderante di maltrattamento superiore Al 50% dei casi rilevati seguono la violenza assistita, il maltrattamento psicologico, l'abuso sessuale e il maltrattamento fisico Su questo tema si confronteranno il 5 giugno a Padova esperti provenienti da tutto il mondo In occasione di un'assise organizzata nell'ambito delle iniziative per i 50 anni della Fondazione Zancane Intitolata l'impatto della povertà e del maltrattamento nel futuro dei bambini Appuntamento mondiale oggi con la giornata senza tabacco Un impegno trasversale nel nome soprattutto della salute che all'ospedale di Sant'Orso ha una declinazione unica in Veneto Ce la racconta Alessandra Altomare della redazione di TVA 31 maggio 2014, la giornata mondiale senza tabacco Perché il fumo di tabacco è ancora uno dei principali fattori di rischio per la salute in Italia e in tutto il mondo L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso che la giornata di quest'anno abbia come tema la tassazione del tabacco Vicenza e la sua provincia aderiscono alla giornata di sensibilizzazione che dice no al fumo Compreso quello passivo aderendo al progetto europeo adottato anche dalla Regione Veneto Che quest'anno è entrato nelle scuole con l'iniziativa Scuola Libera dal Fumo Secondo i dati forniti dal sistema di sorveglianza nazionale Vicenza e la sua provincia Rispecchiano la tendenza dell'intero Veneto che risulta alla Regione Italiana con la concentrazione più bassa di amanti della sigaretta Lotta al fumo che entra in tutti gli ambienti comprese le aree esterne degli ospedali Che proprio nel Vicentino si concretizza con un esempio unico a livello regionale Quello dell'ospedale dell'Alto Vicentino dove ora trovano collocazione due aree Una vicina all'uscita principale e l'altra attigua il pronto soccorso dedicato ai fumatori Abbiamo voluto usare il termine azienda libera dal fumo e non solo ospedale Perché in quanto amministratori di beni pubblici teniamo molto a tutelare l'interesse comune dei cittadini E quanto asserisce il direttore generale dell'Ulse 4 Alto Vicentino Daniela Carraro A Sant'Urso il divieto è steso anche alle sigarette elettroniche, alle aree esterne di pernivenza dell'ospedale Come le porte d'ingresso, le pensiline, i cortili interni, i giardini e i balconi In occasione della festa del 2 giugno rinnoviamo l'appello allo Stato Finché vengano recepite le proposte avanzate nel manifesto dei sindaci Anche per evitare motivi ulteriori di contraposizioni fra componenti della Repubblica E conseguenti manifestazioni di insofferenza finora contenute in ambiti puramente dialettico È il passaggio più forte della lettera che i sindaci raccolti nell'Associazione dei Comuni della Marca Hanno inviato al prefetto di Treviso Marroso alla viciglia della festa della Repubblica Una lettera che è l'ultimo tentativo di mediazione evidentemente prima della rottura E che ribadisce la denuncia di reiterate violazioni della Costituzione Da parte di uno Stato che ha pesantemente compromesso la sopravvivenza degli enti locali La proposta dei sindaci è ormai da mesi nelle mani del governo e del presidente del Veneto Zaia Ma nulla è cambiato, ecco il perché del nuovo perentorio sollecito Un diluvio di richieste è quello che si è abbattuto su Google Costretto dai giudici a garantire l'oblio ai cittadini europei che lo richiedano Un obbligo senza precedenti su cui vediamo di scoprire luci ed ombre Richiesta di rimozione dei risultati di ricerca ai sensi della legislazione europea Per la protezione dei dati personali È l'intestazione del modulo più cliccato e inviato del momento Ossia quello messo a disposizione di quanti in Europa Intendono veder rimosso ogni traccia di sé dal più popolare motore di ricerca Google Dopo la sentenza emanata dalla Corte di Giustizia europea 12.000 richieste arrivate in meno di una giornata Una vittoria della tutela della privacy verrebbe da dire a caldo Perché permette a chiunque di non vivere alla merce del web e delle sue invadenti intrusioni Ma forse anche una sconfitta per la libertà di informazione Visto che il diritto all'oblio non fa differenza e potrebbe diventare un facile strumento di rimozione Delle tracce di azioni contro la civile convivenza e i diritti umani Il rispetto delle persone e della legalità Insomma una spugna che passa soprattutto anche a ciò che aiuta a creare la stessa libertà d'opinione E la coscienza critica di singoli e comunità Benvenga dunque il sacro santo diritto di ciascuno a non essere perquisito online Fin nei più reconditi aspetti della propria vita privata Benvenga la possibilità di decidere di essere protagonisti del web per il tempo che si desidera E di non esserlo più quando si vuole essere dimenticati Ben rimanga invece la traccia delle azioni che nuociono gravemente alla salute della società E il diritto di tutti a conoscere ciò che accade nel mondo nel bene e nel male Un bilanciamento delicato che Google cercherà di garantire attraverso un comitato di saggio appositamente definito E una questione anche etica che non può più essere considerata secondaria Anche perché Google non è l'ombelico del mondo È soltanto uno dei tanti tentacoli di un mondo virtuale Fatto di infiniti altri motori di ricerca su cui nessuno ancora ha imposto regole e laccioli E sull'oblio concesso da Google Michela Fagiani ha voluto sentire anche l'opinione della gente Un modulo dove cancellare i propri dati sensibili o perlomeno alcuni dati sensibili su Google Da oggi è possibile, abbiamo chiesto alle persone se li utilizzerebbero Se su Google si potessero cancellare alcuni dati sensibili, voi lo fareste, cancellereste? Sì Perché? Perché alla fine sono cose che si sanno senza la nostra volontà Sono un po' troppi dati su... Cioè trovi tutto quanto, quello che cerchi adesso Quindi sì Ma non è che lo cancelli da una parte e lo ritrovi da un'altra parte? Eh, speriamo di no Eh, beh, sarebbe il caso di poter gestire i propri dati Ma se non mi sbaglio, Google ha ultimamente prodotto un modulo per la cancellazione dei dati Secondo te molti lo faranno? No, secondo me non c'è la coscienza di quanto siano importanti i propri dati L'idea che vogliono far passare è quella di aiutarti nelle ricerche Quando in realtà forse tengono di più anche per esigenze, cioè per loro esigenze di mercato No, non vedo perché Cioè se li ho messi li ho messi io, quindi fanno bene lì Ed ora una breve pausa Eccoci di nuovo insieme per una seconda parte dedicata interamente ai giornali Più o meno di carta Partiamo infatti da un settimanale che proprio alla vigilia della 48esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali Si apre al web, vediamo Vola anche sulle ali impalpabili del web la voce dei Berici Il settimanale diocesano di Vicenza che ha deciso di aprire le proprie porte Anche al sempre più consistente popolo della comunicazione virtuale Un giornale deciso a volare in alto come la Mongolfiera Che caratterizza la prima pagina del primo numero affidato al web dalla voce E che rinvia in maniera suggestiva all'edizione numero 10 di un festival biblico Che ben si sposa con la missione del settimanale Ossia raccontare con tutti i linguaggi disponibili Ciò che nella vita ogni giorno è traduzione delle scritture e della loro attemporale saggezza Grazie al web questo racconto fatto di tante cose diverse Dalla riflessione politica alle buone pratiche della Chiesa Dai problemi sociali agli stimoli che arrivano dal territorio Diventa oggi ancora più patrimonio comune perché leggibile ovunque su qualsiasi supporto digitale Un giornale che può ora interagire anche con Facebook e Twitter Perché come sottolinea il direttore Lauro Paoletto Ha voluto accettare la sfida che comunicazione e tecnologie Sempre più prestantemente impongono al mondo dell'informazione Ed un giornale sempre più glocal come si tende a dire oggi Ossia capace di stare a proprio agio in una dimensione globale Senza mai perdere di vista le sue origini e la sua appartenenza Chiudiamo dando un'occhiata ad alcuni dei settimanali diocesani in distribuzione in questi giorni Partiamo dalla difesa del popolo Il settimanale della diocesi di Padova Che ricorda in una delle sue due prime pagine i 50 anni di vita della fondazione Zancan Uno sguardo differente dice il giornale Che sottolinea come le sue analisi abbiano sempre accompagnato l'evoluzione dei servizi sociali in Italia Indichino ancora oggi la nuova rotta da seguire Tra gli altri approfondimenti vi segnalo in particolare L'analisi del voto di domenica scorsa e la crisi che sta toccando anche il commercio equo e solidale Passiamo ora a Gente Veneta Il settimanale del Patriarcato di Venezia Che dedica la sua prima pagina alle anticipazioni del percorso pastorale del prossimo anno Sintetizzati in questo titolo Luoghi e persone per dire la fede Mentre sull'azione il settimanale diocesano di Vittorio Veneto Ampio spazio è dedicato all'incontro con cui sono stati festeggiati i cent'anni di vita del giornale Un compleanno importante celebrato insieme al Cardinale Aravasi E ricordato in questo titolo il valore della comunicazione All'interno del giornale troviamo invece il commento del vescovo di Nazareth Giacinto Marcuzzo originario di San Paolo di Piave Sul viaggio del Papa in Terra Santa E proprio il viaggio in Terra Santa del Papa fa da Tredugnon con la vita del popolo Il settimanale della diocesi di Treviso che ci propone questo titolo Segni di pace E ci dice che il viaggio era nato come appunto un viaggio con carattere essenzialmente ecumenico Ma il Papa ha sorpreso tutti pontando sulla preghiera e sull'incontro Infrangendo muri e barriere inaugurando una nuova diplomazia a fondo pagina Lettura consigliata anche di questo approfondimento firmato da Bruno Desidera Post elettorale che si intitola significativamente Renzi fa il pieno al mercato della speranza Bene con questo è davvero tutto Io vi auguro una buona domenica, una buona festa della Repubblica Conti Gichiara, ci rivediamo martedì Grazie Grazie Grazie